Una pizza per Deku di My Hero Academia? Ottima idea! Prendiamo un disco di pasta e stendiamo sul bordo, voilà! E facciamo un bel cornicione ripieno di ricotta, nascondiamola bene dentro la pasta, come Deku tiene in sé il One for All. Condiamo quindi con crema di broccoli, salsicce e fior di latte e inforniamo. Facciamoci aiutare da Shoto per cuocere e all'uscita grana in scaglie. Assaggiamo e... ma non pensate anche voi che manchi qualcosa? No!